Passo la parola a Mario Agostinelli dell'Associazione Laudato Si che terrà l'ultimo intervento e poi ripeto l'invito a chi volesse intervenire di segnalarsi sulla chat mettendo l'asterisco e poi il proprio nome. C'è infatti ancora un pochino di tempo per qualche breve intervento se intanto volete prenotarvi. Prego Mario Agostinelli, grazie. Grazie. Io colgo al volo l'invito di Corrado a non rimanere ciascuno nel proprio settore ma a rendere possibile un movimento che si connette e che accetta la sfida più grande che ultimamente ci è stata posta. Naturalmente è dovuta alla mancanza di tempo di fronte alla crisi climatica e alla pandemia ma in modo particolare è dovuta al fatto che per la prima volta da tempo possiamo agire dai conflitti non stando necessariamente in difesa. Cioè il fatto di avere a disposizione il recovery plan significa creare un modello dove l'occupazione, la salute e le nuove generazioni siano al centro dei conflitti che si aprono. E naturalmente avendo anche a cuore l'occupazione capita come a Civitavecchia che io sto seguendo quasi ora per ora da un anno. Per la prima volta in una maniera così esplicita si salda la componente studentesca, la componente del lavoro, la componente della cittadinanza e perfino, che so, io non sono un credente, però penso che l'ispirazione della laudato sì sia qualcosa di molto significativo anche per voi e si è saldato anche praticamente, cioè è dentro questa partita anche la parte dei fedeli. E quindi, come si può dire, una saldatura che vede nel conflitto che si apre un'occasione da giocarsi subito. Allora, hanno già parlato Alice, Vittorio e Viviana di quello che doveva essere un po' l'argomento che io avrei anche articolato. Questo mi consente allora di concentrarmi su pochissime cose. La prima, guardate che la partita è durissima perché si sono già attrezzate le tecnostrutture di quelli che avremo davanti a noi, dall'ENI, ma anche A2A, anche il multiutilide, hanno già fatto funzionare i loro centrostudi per preparare gran parte dei recovery fund. Devo dire che da questo punto di vista è abbastanza inquietante, anche per la mia esperienza, io sono stato a lungo nel sindacato, il fatto che sia stato assunto come responsabile giuridico del nuovo ministero, quello di Cingolani, Marco Ravazzolo, cioè l'uomo che ha seguito le battaglie contro l'ambiente, non sull'ambiente, in confindustria, fa capire che non ci muoveremo agevolmente, ci muoviamo con avversari che si stanno attrezzando innanzitutto a procrastinare il tempo dello scontro. Cioè se uno dice 2050, vorrei chiedere a Alice o a Viviana o a tutti che cosa si fa nel 2001, 2002, 2003 per evitare che al 2030 non si raggiunga assolutamente il 55% di emissioni climaalteranti. Cioè di non superare. Allora, da questo punto di vista, allungare i tempi e non entrare in gioco proprio con lotte autentiche, che però siano ampie, larghe, conosciute, approfondite, vuol dire ad esempio non rendersi conto che questo è il messaggio che noi abbiamo individuato nella Laudato Si, che tutto è interconnesso, cioè tra l'acqua e l'energia e la pandemia e la biosfera, c'è un rapporto così interdipendente da rendersi impossibile essere indifferenti a ognuno dei temi che sono stati adesso qui sollevati. Guardate che questa rivista importante che è l'ANSET ha fatto girare da dieci giorni uno splendido studio dove spiega che se nei prossimi cinque anni noi non riusciamo a superare la trasformazione dalla pandemia a sindemia e non riusciamo a ridurre almeno di 7-6% all'anno l'anidride carbonica che emettiamo, non sarà possibile arrivare a uno stato di equilibrio che garantisca, dice così, non dice più la salute, ma la sopravvivenza, la sopravvivenza. E lo dice la rivista forse oggi più prestigiosa, citata da tutti i virologi, ciascuno a suo modo, ma quando va a toccare il punto, dice bisogna fare in fretta e fare bene. E qui ho un secondo appunto da mettere. Allora, guardate che un grande assorbitore di CO2 è il suolo. Cioè a volte ce lo dimentichiamo, non solo le piante, ma per ogni cementificazione, per ogni autostrada, per ogni infrastruttura che copre un suolo qualunque, noi perdiamo assai di più di quanto si possa fare chiudendo una centrale da 2000 megawatt, come è il caso, ad esempio, che so, di Brindisi o di Civitavecchia. Cioè noi dobbiamo avere un'attenzione molto, molto forte a tutto quello che si connette intorno a noi. E, ad esempio, se vogliamo reggere questo scontro, noi dobbiamo essere in grado di pensare a come il nostro paese può continuare, non solo a vivere in salute, se possibile, e con tutta la sua storia, la sua bellezza, il paesaggio, ma anche con una dignità del lavoro. Per quello all'inizio parlavamo anche della riduzione dell'orario. Ma con una dignità del lavoro che è garantita dal fatto che il sistema energetico, ad esempio, e il sistema idrico garantisca più occupazione di quanto non ci abbiano costretto invece a sopportare quelli che hanno privatizzato l'energia e l'acqua, perché questo è il risultato. Cioè di fronte al mantenere pubblico questi beni c'è non solo più occupazione, ma democrazia e dignità del lavoro. Ecco, sono due osservazioni che volevo portarvi qui, aggiungendone una terza perché io credo che noi dobbiamo studiare molto però, lo dico soprattutto agli studenti, perché non basta avere un'idea, che so, dell'idrogeno buono o cattiva. Ecco, dobbiamo avere un'idea di dove e come si applica e qual è il modello che noi individuiamo. Ad esempio, stiamo attenti, cioè il vero problema dell'idrogeno è che per fare l'idrogeno o usi il metano, ma in questo caso butti la CO2 fuori, oppure usi l'acqua, però la consumi. E la consumi in due modi, idrolizzando, ci vogliono 10 litri per fare un chilo di idrogeno, non è molto, però se lo fai ad esempio con il solare o con il fotovoltaico, non c'è altra acqua che consumi se non quella lì che serve per conservare ulteriore energia. Ma se lo fai attraverso le caldaie o le turbine delle centrali, il conto ad esempio che abbiamo fatto noi come un gruppo che si sta occupando di questo, noi non avremmo, se mantenessimo il sistema fossile che abbiamo, abbastanza acqua per competere nella produzione di idrogeno come ci viene richiesto. Naturalmente dobbiamo fare le due cose, cioè incentivare le rinnovabili al punto da poter creare anche un rimedio al fatto che sono discontinue, cioè l'idrogeno serve a questo, serve a fare in modo che, dato che il sole non c'è di notte e il vento non tira sempre, si possa conservare e ridistribuire. E chi lo può fare meglio di una comunità che è retta democraticamente? Volete un esempio? A2A sta facendo delle cose orrende. Poi è la conclusione. È proprio finito. A2A, ad esempio, è un terribile, come si può dire, cultore di un'idea della città a Milano, praticamente sopportata da tutti e io volevo anche avvisarvi, ma non è vero che abbiamo il 51% di pubblico in A2A, eh? Dappertutto la prima cosa che hanno fatto è di mettere il pubblico in condizioni di non essere assolutamente pacchetti di maggioranza, se non attraverso delle ulteriori alleanze che si chiamano poi partenariato pubblico-privato, che è il vero problema che abbiamo davanti anche con il recovery plan. E quindi lavoriamo insieme, ecco, ne abbiamo un grande bisogno. Grazie, grazie Mario, che hai messo l'accento anche in particolare su come tutto in realtà sia interconnesso, come in effetti la natura poi alla fine ci governa proprio in questo modo. Una cosa piccola che tocchi da una parte può diventare gigantesca dall'altra parte del mondo, quindi è importante tenere a mente questa interconnessione tra tutti i fattori e allo stesso modo tra tutti i movimenti, perché poi alla fine quello che ospichiamo anche con incontri come questo è proprio quello di creare interconnessione anche fra tutte le battaglie.